malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene ripartiamo con una pillola precedente nella quale avevamo detto che il surplus in economia è dato sostanzialmente è funzione di n di v e di p di piccoli ora alcuni di voi staranno già girando canale evidentemente ma io credo che se vogliamo parlare di economia in termini corretti dobbiamo affrontarla non come una materia da bar allora abbiamo detto che sostanzialmente il riutilizzo della conoscenza l'efficacia della conoscenza e l'appropriazione della conoscenza da parte del soggetto i sono le tre variabili che determinano il surplus in questa visione dell'economia le cose cambiano completamente e questa è la grande differenza tra la visione di un'economia umanistica che si economia capitalistica che si basa sullo sfruttamento fermiamoci qui e proviamo a ragionare ora questa mattina le persone stanno andando a votare e tutti i commentatori vi parlano di che cosa fare sul voto sì o no al referendum e via discorrendo io tento a fatica naturalmente di introdurre altri argomenti di discussione che siano staccati dalla estrema attualità della questione della quale vi parlano tutti gli altri commentatori e io invece vi parlo di temi che sono temi apparentemente astratti apparentemente teorici apparentemente non concreti è una mia scelta precisa dato che per mestiere faccio cose molto concrete cioè insegno ai commercialisti come fare per esempio a salvare le aziende con corsi di finanza per azienda appunto e quindi trovate le informazioni semplicemente mettendo strumenti commercialista e valerio malvezzi su google o qualsiasi motore di ricerca proprio perché io faccio consulenza alle aziende insegno ai commercialisti come farla mi rendo conto che è necessario nel dibattito attuale alzare il profilo della discussione o perlomeno provarci cioè non si può continuamente pensare che i problemi del mondo siano risolvibili continuando a fare tutti i giorni le cose che facevamo ieri senza staccare la testa dal foglio andando dietro una scadenza dietro l'altra un'urgenza dietro l'altra una dichiarazione dei redditi dietro l'altra una cartella di acquitalia dietro l'altra o un sondaggio politico dietro l'altro penso che gli uomini liberi di qualsiasi professione dovrebbero ogni tanto fermarsi e dire da dove deriva il surplus deriva dalla conoscenza ecco allora fermiamoci perché se non deriva dal capitale allora tutto il modello economico nel quale viviamo è sbagliato buona economia umanistica malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene grazie a tutti